ciao e bentornati sul mio canale in questo video farò una partita di prova a rift force si tratta di un gioco di carte per due giocatori le cui regole vengono spiegate in questo mio video eccolo qua ovviamente in queste non le spiegherò perciò se avete bisogno seguite il link e avrete la spiegazione completa del gioco andiamo subito a vedere la partita il giocatore blu è il primo giocatore il giocatore giallo è il secondo entrambi hanno già pescato sette carte il secondo giocatore ha messo la prima carta del proprio mazzo davanti al territorio centrale scelgo di giocare tre elementali di valore 6 e le posizioni adiacenti uno all'altro dopodiché passo il turno il secondo giocatore gioca invece tre elementali di valore 5 decido di attivare gli elementali scartando un 6 quindi si attivano tutti e tre l'ordine lo decido io ovviamente e prima attivo gli elementali di cristallo facendo quattro danni al mio avversario dopodiché decido di muovere questo qui e faccio un danno all'elementale uccidendolo guadagno due punti grazie all'abilità dell'elementale del buio il terzo elementale decido di non attivarlo il secondo giocatore decide di controllare e pescare guadagna così un punto e poi pesca altre tre carte io invece decido di giocare queste due carte 2 5 dopodiché passo il giocatore giallo gioca 2 7 e poi passa io decido di controllare e pescare quindi guadagno un punto e pesco sei carte il giocatore giallo gioca 3 5 dopodiché passa pure io gioco 3 5 avendo messo in gioco un elementare della terra tutti gli elementali avversari nella stessa colonna subiscono un danno il giocatore giallo attiva i 5 scarta quindi questa carta attiva quindi questo elementare delle piante fa due danni al mio elementare della terra che viene tirato sulla sua colonna attiva poi questo elementare delle piante che fa invece due danni al mio elementare del del buio e viene a sua volta tirato dopodiché attiva l'elementare del fuoco che fa tre danni al mio elementare del buio anch'io attivo i cinque faccio quattro danni con l'elementare di cristallo altri quattro danni con questo elementare di cristallo che sono sufficienti per uccidere l'elementare del fuoco un punto dopodiché attivo l'elementare della luce due danni e una cura a questo il giocatore giallo controlla guadagna un punto e pesca io invece scarto un 7 per attivare i cristalli quattro danni a questo quattro danni a questo e quattro danni a questo il giocatore giallo gioca tra 6 io invece controllo e pesco nessun punto e pesco 5 carte il giocatore giallo ora attiva i 6 con l'elementare del fulmine decide di fare due danni al mio elementare del buio che muore e gli fornisce un punto l'abilità dell'elementare del fulmine gli permette di fare un altro attacco e decide di fare due danni all'elementare di cristallo tocca poi all'elementare del fuoco che fa tre danni all'elementare del cristallo che muore e fornisce due punti al giocatore giallo l'elementare del fuoco fa anche un danno al suo alleato l'ultima attivazione è quella dell'elementare delle piante che fa due danni all'elementare della luce e se lo tira davanti a sé tocca a me gioco questo questo che fa un danno e uccide l'elementare delle piante un punto e poi questo il giocatore giallo attiva nuovamente i 6 in questo caso però attiva prima la pianta che fa due danni all'elementare della terra e lo tira poi attiva l'elementare del fulmine che fa due danni all'elementare della terra che gli fornisce un punto e poi riattiva nuovamente l'abilità facendo due danni agli elementari di cristallo infine attiva l'elementare del fuoco che fa tre danni all'elementare di cristallo uccidendolo due punti per il giallo e un danno al suo alleato tocca a me e gioco queste tre carte dopodiché passo il turno il giocatore giallo controlla non guadagna niente e pesca eppure io controllo e pesco guadagno un punto e sei carte il giocatore giallo attiva gli elementari dell'acqua prima questo due danni e poi un danno poi questo due danni e un danno e infine questo due danni e un danno io attivo gli elementari della luce quindi due danni e una cura due danni questo muore e una cura e poi due danni e una cura il giocatore giallo gioca 27 mentre io ora attivo l'oscurità un danno un danno e un danno sufficiente a uccidere l'elementare ottengo quindi due punti il giallo controlla guadagna un punto e pesca io invece gioco i sei il giocatore giallo attiva i sette due danni e un danno due danni più un punto e poi due danni attivo gli elementari della luce due danni e una cura due danni e una cura due danni e una cura il giocatore giallo attiva gli elementari del fuoco ma decidi di attivare soltanto questo ma quindi tre danni al mio elementare della luce io controllo non guadagno punti e pesco il giocatore giallo attiva invece i sette fa quindi tre danni a questo che muore due danni qua e uno qua e due danni qua e uno qua io gioco tre elementari della terra e faccio tre danni all'elementare del fuoco il giocatore giallo attiva gli elementari dell'acqua fa due danni qui e uno qui due danni qui che muore e uno qui che muore e infine due danni qui e uno qui ha vinto quindi il giocatore giallo sono riuscito a perdere contro me stesso pur essendo una partita completa il video dura molto poco perché io ho condensato e tagliato tutti i miei momenti di riflessione diciamo che una partita normalmente si attesta tra i 15 e 30 minuti se entrambi i giocatori conoscono il gioco in 15 minuti si finisce salvo la recezione 30 minuti è più il tempo per due neofiti del gioco tuttavia i turni sono molto rapidi soprattutto quando uno controlla e pesca e anche quando si posizionano gli alimentari si sta veramente poco il gioco per quanto mi riguarda è molto divertente ci ho fatto circa una decina di partite e mi ha lasciato molta voglia di riprovarlo come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui se avete dubbi domande o commenti scrivetemi e vedrò di rispondervi il prima possibile e intanto vi auguro buon gioco ciao ciao